Pattern 5, Hi-Hat, Half-Bit. Questo è essenzialmente un esercizio di coordinazione che prende in considerazione il primo colpo in levare della terzina, per la precisione il secondo ottavo. Una volta che si acquisisce padronanza con il movimento, provare a eseguire la terzina completa sulla Hi-Hat suonando il singolo colpo come accento. Fare particolare attenzione anche al disegno della cassa e alla dinamica della terzina eseguita sul rullante alla fine della misura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.